Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Mi chiamo Sara e sono una studentessa del terzo anno del corso di laurea in Scienze del Turismo. Per me studiare all'Insubria significa ampliare i propri orizzonti. Per questo motivo sono convinta che uno dei punti di forza di questo Ateneo sia l'internazionalizzazione, offerta attraverso il programma Erasmus e attraverso uno scambio specifico del mio corso di laurea negli Stati Uniti d'America, presso la Niagara University, un programma a cui ho partecipato lo scorso semestre. Esperienza all'estero, contribuiscono enormemente ad accrescere il proprio bagaglio personale e culturale, permettono di confrontarsi con realtà diverse dalle proprie e inoltre saranno anche di aiuto in un futuro per l'inserimento nel mondo del lavoro.